ciao e bentornati dal vostro lorettec oggi siamo in compagnia di motorola ma prima di cominciare sigla bentornati sul mio canale io sono lorettec quest'oggi vedremo l'unboxing di un nuovo cellulare motorola e 32 ma direi di non perdere altro tempo e di cominciare subito prima di cominciare con l'unboxing diamo un attimo la confezione questo blu logo tipico di motorola moto e 32 qua abbiamo il colore con l'anteprima due colorazioni questa colorazione più scura e anche il grigio chiaro sleek stylish design 6.5 pollici display a 90 hertz 16 megapixel di fotocamera per ogni unboxing che si rispetti ci muniamo delle nostre forbici e lo andiamo ad unboxare tagliamo il sigillo vediamo cosa c'è nella confezione il nostro pezzo forte lo mettiamo un attimo da parte e vediamo ancora cosa c'è nella confezione allora manualetti di istruzione prima configurazione la spilletta per rimuovere il vano della sim alimentatore da muro usb a colorazione nera cavetto usb a dovrebbe essere usb c eccolo qua esatto e poi vediamo cosa abbiamo qui dovrebbero essere delle cuffiette ah sì ecco delle cuffiette e devo dire vengono ancora inserite nella confezione non male sono come vedo simili quindi alle airpods con il jack da 3.5 pollici questa è una cosa ottima dopo vi spiegherò facciamo un attimo un po di spazio e veniamo al nostro pezzo forte bellissima questa colorazione allora è un grigio scuro si tipo canna di fucile ma come vedete con i riflessi del sole fa questi bellissimi giochi di colore qua abbiamo il brand motorola la scritta motorola le tre fotocamere tripla fotocamera con il flash nella parte destra abbiamo l'accensione un altro tasto penso per lo sblocco è lo slot per la nano sim uscita jack da 3.5 pollici usb c e qua abbiamo gli speaker andiamo ad accenderlo ok ha vibrato bellissimo questo logo motorola in blu qua come vedete si vede la fotocamera anteriore come vi dicevo ottima la possibilità di avere l'uscita da jack ecco questo è il sound che c'era nei vecchi motorola è stato ripreso veramente un'ottima cosa come vi dicevo l'uscita jack da 3.5 pollici vi permette di poterlo collegare magari a un impianto stereo o a un computer molto molto interessante ragazzi è da tantissimo tempo che non vedevo l'ora di unboxare e provare un motorola un po di considerazione a caldo qualità costruttiva devo dire ottimo bellissimo questo alluminio spazzolato che cambia colore ci sono due colorazioni questa più scura è anche il grigio chiaro un display molto bello luminoso con un refresh fino a 90 hertz adesso però voglio sapere la vostra che cellulare utilizzate fatemelo sapere qui sotto nei commenti a questo punto non mi resta fra l'altro che salutarvi da motorola e 32 è l'oretta che era tutto noi ci vediamo in un prossimo video ciao